I meno giovani ma anche quelli degli anni 80 come me si ricordano della vitamina B12 che veniva data ai ragazzini perché bisognava integrarli e farli crescere meglio. Questo libro parte un po' da questo assunto ma poi si allarga anche ad altro. Sì, sì, perché in pratica io ero molto molto magro, dicevano gracile e quindi avevo bisogno di vitamina B12. Il motivo adesso, guardando indietro, il motivo è che ero gracile perché la dieta abruzzese, la cucina abruzzese non fa ingrassare, è veramente sana. Quindi anche se mangiavo tutto, legumi, verdura, carne, pesce, non si ingrassava se aveva bisogno della vitamina B12 come ricostituente da primavera e in autunno. E adesso altrimenti dopo tanti anni si è presa la rivincita e mi ritrovo con questa ruota di scorta. Lei per tanti anni in America, insomma, come è visto il nostro paese, come è visto l'Abruzzo d'oltreoceano? Quando dico che sono abruzzese mi dicono dov'è? Allora la solita risposta, dall'altra parte di Roma. L'Abruzzo sfortunatamente non è conosciuto all'estero, è veramente un peccato perché abbiamo montagne, abbiamo colline, abbiamo il mare vicino a Roma, Milano 5 ore. Veramente nella centrale, anche la cucina rispecchia il nord, il sud, il centro. Io sono in contatto da tanto tempo, adesso mi hanno richiamato di nuovo, con la regione Abruzzo per cercare di creare una volta per tutte una film commission. L'Abruzzo ha la fortuna di avere più talenti di origine abruzzese di qualsiasi altra regione d'Italia. Sono attori, registi, scenografi, agenti, tutti di origine abruzzese che potrebbero venire qui e produrre i film, girare i film, le serie televisive in Abruzzo perché c'è tutto. Sfortunatamente i nostri politici dedicano troppo tempo alla politica e poco tempo alla cura dell'Abruzzo. Siamo partiti dal libro e ci torniamo in chiusura di questa intervista. Lei parte dagli anni 60 nel racconto di questo libro. Come è cambiata la società dal 68 ad oggi? Non è cambiata. Una volta si chiamava emigrazione, adesso si chiama fuga di cervelli. In pratica siamo sempre lì. Una volta c'era il riciclo, non si buttava nulla, adesso c'è la raccolta differenziata. Una volta la dieta era sana, adesso bisogna pagare per avere una dieta sana, ma tutti quanti vanno in ricerca della sana dieta. Io non è che vedo molti cambiamenti.